Cristi Lange, io ascolto ammirata questo sfoggio di sofismo, sono al governo e quindi sono al potere, ma lei ce lo vedrebbe un sindaco leghista a Roma, Cristi Lange? Ma perché no? In fondo tutto può essere, chi l'avrebbe mai detto che a Torino città, sabauda eccetera eccetera, ci sarebbe stata una sindaca 5 Stelle che poi devo dire da noi non viene contestata assolutamente, ha avuto dei rovesci di fortuna eccetera, ma chi si sarebbe potuto immaginare nella rossa sabauda quasi monarchica direi Torino di avere un sindaco 5 Stelle? Poi scusi, ma non è che proprio Alemanno fosse un esponente del riformismo illuminato, per cui ci può stare tutto, io credo che i romani, e lo dico da Torinese che viene spessissimo a Roma, l'unica cosa che vorrebbe era avere una città ben amministrata, Raggi non lo sta facendo alla grandissima, ma anche chi c'è andato prima non è che i miracoli li abbia fatto, io mi ricordo una Roma meravigliosa l'anno del giubileo, da allora in poi guardi lo stadio, prima di cominciare sono già tutti in galera, un po' strano.